Allora, voi siete prepotentemente interessati a sapere che abbiamo superato le 60.000 firme per riportare il nucleare in Italia, cosa che il governo dice di voler fare, ma non sta facendo, sta rimandando, e cosa che è fondamentale per avere un'energia più indipendente intanto dall'estero, completamente green, però non intermittente come le rinnovabili e per avere un costo dell'energia, come succede in Francia, del 30% meno caro. Quindi la raccolta firme è andata oltre ogni aspettativa, ripeto, siamo sopra le 60.000, io spero di vedere la Miloni il prima possibile per chiudere questo dossier e fare qualcosa.